e ciao ragazze ciao a tutte a tutti nuovo video chiacchiericcio come state spero bene allora questo è un video per parlare un po con voi e come le solite chiacchieratone comunque nulla allora ho appena fatto sono appena riduce da un video non pensate male sono appena riduce da un video che ha fatto dei prodotti terminati beauty e quindi questo è un video che che diccio adesso dunque cosa dirvi di bello mi sa che io vabbè un po mi sono lavata la faccia mi ha dimenticato di mettere in questa ma vabbè mi sa che ormai non me la metto ma me la potrei anche mettere adesso non so se ha senso comunque no non ci voglio mettere una capa d'abbraccio ma nel senso che mi sa che mi metto se riesco perché voglio truccarmi con voi in diretta con questa faccia così da pesce lesso non posso vedere comunque vediamo un po se ho sto guardando dove ho messo il mio ah eccolo qua il mio specchietto se non faccio guardare oggi ho fatto da anni ma vabbè dettagli qui ho il mio specchiettino e mi faccio il mio delle specie giuce tanto per provare a stoccarle ah ah già qui non ho manco una cavolo di lampada ma se potete vabbè non ho una lampada adatta per fare video ma non me ne importa la mazza va bene lo stesso c'è un caldo tremendo boia proprio vabbè e io mi devo truccare ma non ho capito sì lo so è un divertimento ma è anche un po una scocciatura perché in questo caldo non so chi è che voglia di truccarsi sinceramente tanto per provare a struccarmi sia chiaro ragazzi mi strucco perché così non posso stare potevo piacere anche l'altro video a fare una sorta di sopracciglio meno come si soltanto in sicilio meno scimonito meno scemo perché così sembro scappata di cosa come aveste come vi vedrete nell'altro video sicuramente pazienza acchiappate quel video così come esce ok perché sinceramente non voglio fare troppi strallatti di riregistrare il video oddio come sto facendo sto sopra ci sono casper caspita aspettate un secondo per lì si vede da questa parte ok state ballando vabbè o elio vogliamo chiamarlo elio questo sopracciglio no vabbè c'è un petto come sceglie ragazzi vabbè allora le gotte sono meno bagnata quindi vado di vado di vado di cosa di terra se la trovo la troverò la terra non lo so mi devo preoccupare di tirarla fuori si in effetti si il correttore e la terra la terra come terra ho tirato fuori il correttore infallibre della l'oreal ovviamente questo qua 327 cashmere che ovviamente so che usa anche fabiana no che fabiana che sto da ti ivana ruggiero quartuccio ecco qua stavo già dicendo fantomine vabbè tanto spero che taglierò se riesco a tagliare non mi ha detto no però così non vedete una fava questa roba che vedo di qua ok mi si sta scaricando il telefono va bene ok mi devo piuttosto sbrigare no perchè poi sapete io come sono la faccia è troppo lunga no non so se tagliare o seppure 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 lasciare così non lo so adesso vedrò nell'editing cosa devo fare o meno no però qua non vedo una mazza anche il cane che balla ci voleva adesso no vabbè l'amica che vuole assistere anche il cane che vuole assistere ai miei video ovviamente non so se lo sentite sottofondo però c'è il cane che balla non credo se riesco a mettere musica che mi sentite il cane bu comunque questo correttore è molto buono eccellente mi mi copre anche troppo si veramente copre 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 adesso c'è una pacca bianca però poi vado a settarla con della cipria se la trovo perchè non dove trovarla melania perchè non dove trovarla perchè uuuu mi faccio paura vero mi faccio come gattaluna kimono blu o senza come si dice che vi offendiate non lo faccia per offendere o per che ne so per fare la pagliaccio però mi piace scherzare con voi con gattaluna non so se lei accetta questo video però ciao gattaluna kimono blu ciao voglio scherzare con te la so che non te la prenderai almeno mi auguro che non te la prendi perchè non voglio ehm beffeggiarmi di te ci mancherebbe altro con tutto il rispetto che ho per te ma voglio solamente scherzare sia con i tuoi fan ma anche con i miei sempre che lo lo permettono i tuoi fan non lo so non ne ho idea ecco qua io non sono una makeup artist ci tengo a precisare e non voglio insegnare da nessuno mi piace solo truccarmi e basta ok allora ora ho solitato il tutto con la cipria della rimmel worm beige cos'è questa 006 sembra che sto dicendo il numero di un sceriffo non lo so che cosa 007 diciamo facciamo 006 ok facciamo un commento va bene ah mamma mia dio buono ok poi questa è la terra bellissima se non ha profumo almeno penso perché non lo sento se non è che il naso tappato ma non lo so comunque stringiamo che è meglio rimmel sun shimmer questo qua è della terra bronzer appunto e si puccia un pochettino come potete ben vedere quindi tattatatata ok ok ora passa la polizia prima di fare danni perchè tante storie fai non lo so io mhm perchè io mi vedo strana boh, no nel senso non pensiate male mi vedo strana che non boh non riesco a capire perché ah io mi stavo morsicando quello che uno mi sta pensando perché boh se no che ho sbagliato qualcosa io nel trucco vabbè, facciamo vedere ah un po' meglio sono adesso non ho messo mascara ma non lo metto perché non ci penso neanche a fare tutto il trucco col mascara, no non ne parlate neanche ragazze non ne parlate neanche e già tanto se mi mettono penne di blush terra e voilà e basta così questo è del rimel sì, quasi tutto a tema rimel non vi preoccupate rimel, eccolo qua ne levo un pochettino perché voglio evitare di diventare un pagliaccetto quindi assolutamente no sorrido ovviamente come sappiamo fare tutti nei video senza diventare dei pagliacci ok anzi se va già un pagliaccio ma lasciamo stare che è un video già poi con l'ultima cosa non so se andare a prendere questa tinta qua che sa proprio di Dracula o per di Dracula oppure questa di Wicon che non lo so che l'ho vista ma dove l'ho messa? ah ma questo è il tappo allora spiegate un secondo se la trovo in diretta con voi ce l'avevo qua dentro non la trovavo pensate voi questo è della Wicon 321 no 604 Sublimat quindi si matifica sulle labbra e vediamo cosa ne esce fuori senza che mi devo chiudere il video si sto fanno non è colpa mia si sta scaricando la batteria ragazzi vi saluto già da adesso mettete like commento commento e attivate la campanella se ovviamente vi iscrivete ok ok questo è il trucchettino fatto come dice gattaluna gattaluna chimono blu scusami non mi dispiace anche se senza mascara e illuminante che vabbè tanto non lo vado a mettere se no pesantisco troppo e sinceramente anche no grazie però non mi dispiace dai sono contenta sono soddisfatta e potete richiedere anche voi quando non sapete cosa fare del vostro canale youtube se volete fare un video come questo cercando di basarvi su chissà quali argomento make up o anche skin care oltre alla skin care ricordatevi come dice chimono blu gattaluna di fare quello che vi fa star bene ovviamente e non solo se questo trucco vi piace come dice lei questo trucchettino vi piace fatemelo sapere qua sotto i commenti e se vi va di ricplicarlo o nei vostri video o in private poi mandate una foto a me su instagram poi se lei mi chiede qualche cosa la giro la sua volta a lei alla gatta chimono blu alla gatta luna chimono blu io non so non riesco a parlare oggi passatemela non ho idea perché non riesco a parlare eh vabbè non ci vogliamo fare ora vi giro qua faccio come gatta luna chimono blu non beco per all'ema perché mi sta troppo simpatica gatta luna chimono blu ecco qua questo è il mio trucco intanto non ho fatto il trucco che ho fatto solamente il viso la base viso non ho messo questa crema qui che avete visto questa crema qua ma poca importa tanto la pelle si rigenera anche così vabbè sto dicendo una stupidata forse è meglio che la taglio ma vabbè dettagli e niente ci vediamo in un prossimo video nel prossimo metterò questa promesso ok promesso 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 e niente ragazze che dire mi sarò un po' impappinata cercherò di tagliare le parti dove mi sono impappinata ok se riesco non è detto però vabbè ci provo ciao un bacio e saluto ovviamente gatta luna chimono blu ciao scusate scusate